Il principe di Piemonte, ispettore dell'arma di fanteria, passa in rassegna una nostra divisione corazzata in completa efficienza di uomini e di mezzi, in partenza per una zona d'operazioni, la sfilata della possente unità. Il principe di Piemonte Il principe di Piemonte Il principe di Piemonte Il principe di Piemonte Il principe di Piemonte